Situazioni spiacevoli Situazioni spiacevoli Situazioni spiacevoli Cosa posso dire? Guardate dove ho la ruota dietro Lo so, magari tra un po' trovo anche il petrolio credo perché usi questa nuova tecnica di limatura della catena? ma perché si consuma troppo poco allora ho deciso di vedere quanto dura contro una roccia vediamo se i 100 cavalli del cappone bastano la città è una scala per ora con il buon anno ma perché si sono iniziato per ora in modo che sono iniziato a fare una scala per la città la città a fare una scala per ora la città è una scala Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.